L'azienda vitivinicola La Pizzuta del Principe è di proprietà della famiglia Ranieri che la gestisce fin dai primi anni del secolo scorso. Esita Strongoli in provincia di Crotone e sorge immersa in pianure ricche di vigneti, uliveti, traverde colline che godono di inverni miti, dolci primavera ed estati assolate. La prima cantina è stata fondata nei primi anni 90 da Albino Bianchi, marito dell'attuale proprietaria Clara Ranieri. La passione muove la loro attività per tutto ciò che in natura si trasforma per ottenere dalle uve di questa terra vini di sicura qualità. I vini di punta dell'azienda nascono tutti da vitigni autottoni. Molarello, Magliocco, Gaglioppo, Greco Nero ed è proprio del Greco Nero, un Greco Nero 100% nella versione Zingamaro IGT 2009 che noi vogliamo parlare. È un vino dal colore intenso, con riflessi ancora violacei, profumo ricco, speziato, frutta matura, sensazioni calde e avvolgenti, molto persistenti. È in bocca, morbido, caldo, personalissimo, ottimo accompagnamento con carni rosse, selvaggina, formaggi stagionati, ma soprattutto è un vino che fa innamorare.